I conflitti che insanguinano l'Africa e l'importanza della pacifica convivenza tra le varie componenti sociali e religiose del paese. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell'incontro, oggi in Vaticano, tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Uganda, Museveni, il quale ha incontrato poi il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e Monsignor Dominique Manverti, segretario per i rapporti con gli Stati. Durante i cordiali colloqui, rende noto la Sala Stampa Vaticana, sono stati trattati alcuni aspetti della vita del paese e sono state evocate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di Uganda, con particolare riferimento al fondamentale contributo della Chiesa Cattolica e alla collaborazione con le sue istituzioni di carattere educativo, sociale e sanitario.